Per me è un grande onore, subito dopo la partenza della prima ondata del Tour de Jean, avere qui come ospiti nel nostro salotto Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, i nostri più grandi campioni dello sci nordico e sono veramente contento di avervi qua, benvenuti. Grazie, è un piacere per noi essere qui a fare due chiacchiere. Allora, chiaramente non parliamo di fondo, anche perché adesso fa un caldo che alla metà basta, però anche questo è fondo volendo, è più che mezzo fondo. Endurance. È fondo, è endurance. Allora, partenza vi è piaciuto? Sì, è stata una bella esperienza. È un qualcosa che, come sempre, quando c'è il pettorale addosso, prima di partire per una gara, non so, la sensazione più simile per me, che per carità non sono partito per il Tour, però l'atmosfera, diciamo, simile, più avvicina, che si avvicina di più è quella di una partenza di 50 chilometri. Perché è come se ti senti, stai prendendo per un'avventura, poi ovvio, 50 chilometri di fondo, in due ore massimo e mezza li hai sbrogliati. Qua ne hanno per qualche oretta in più. Però è la sensazione di fare, che sta per iniziare una sfida, una sfida con te stesso in primis, ed è una grande avventura. È chiaro che poi, giustamente, voi siete corsaioli, quindi come mettete il pettorale vi escono fuori già subito le zanne. Sì, è stato emozionante, è stato un bellissimo momento. Ed è... sì, noi ce l'abbiamo dentro, l'agonismo avrebbe voglia di partire anche a noi. e quindi non è escluso, è... Ecco, quello che stavo per dire, mai dire mai, è come il film di 006. Magari inizieremo da qualche cosa di più corto, tipo il Tor 30. Anche perché poi un 330, comunque, sanno proprio pulito, non è necita da lì. No, infatti, per adesso è una cosa nel futuro remoto, però non è escluso. E' bello quello che, voi avete, giustamente, da grandi campioni che siete, avete visto quella parte lì, quella dei campioni, ma avete visto, e qui c'è quella, è stata la prima ondata, diciamo, di quelli un po' più bravi, a prescindere da quelli di fronte, ma, se siete ancora qui dopo, guardate anche quelli che partono dopo, perché loro non sono campioni. Loro non sono campioni. Eh, ma questa gara, penso che la difficoltà più grande sia arrivare, perché, e per loro la sfida è più ardua ancora che per chi partiva in prima linea. Però, appunto, sicuramente un grande in bocca al lupo a tutti, anche e soprattutto a chi, appunto, parte un po' più con calma, e, però, l'obiettivo, penso che sia quello, perché, comunque, sia, sono 330 chilometri e... E tanta roba. Noi, quando ne facciamo tanti di corsa, stiamo in giro anche 40, 45, però 330. 40 e 45 comunque fatte. Può succedere, altronde bisogna allenare il motore ed estate la corsa è uno dei mezzi che utilizziamo. Fate tanto dislivello? Ma, quando siamo a casa, per forza di cose, perché... A casa nostra con un gippiano. In Valle d'Aosta, dove parti, poi però è bello quando magari trovi quei sentieri che parti, su, poi... Che stai sopra, rimani. Quello che si chiamano, nel trail, mangia e bevi. Ecco, è proprio bello. Però, quando siamo anche al nord, all'estero, qualche corsa lunga l'allenatore ce la mette in programma, allora lì è un po' più... Eh, al nord è tutto più, più... Molto più mangia e bevi, fin da subito, senza lo strappo iniziale. Loro adesso nel trail hanno anche inventato questo nuovo nome che l'hanno preso dal ciclismo, chiamano il gravel, lo chiamano proprio, perché loro hanno tutti questi sentieri fuoristrada, queste poderali, chiamiamole... Sì, in realtà è quello che serve a noi, perché all'uscita di fondo in realtà, grandi salite ci sono, però sono intermezzate da discese, piani, quindi a noi serve tanto fare questo mangia e bevi, salita e discesa, più volte, e quindi andiamo al nord anche per trovare queste condizioni. Certo, la salita per voi è quasi uno sprint, cioè è un impegno da... Sì, la salita, diciamo che dura anche cinque minuti, in una gara di quelle lunghe, sui giri da cinque chilometri, ci sono salite che durano tre, quattro, cinque minuti, però non di più, quindi sì, si tratta di sforzi diversi, è un... sicuramente molto diverso, perché come diceva Federico, la gara più lunga che facciamo dura due ore, due ore e mezza, quando nevica... Quando andate piano... No, quando andate piano ce ne mette anche molti di più, dipende tanto dalle condizioni della neve per noi. Ma quello che volevo chiedere, quando fate una salita appunto di... A quanto vi va il cuore? A quanto vi va la pompa? Il cuore sale anche sopra i 190 wattiti, da trono del nostro motore... Ma sai, dove sale di più, a me, dove sale di più in assoluto è a correre forte in piano, vado anche oltre i 200, ancora a 33 anni, quindi... Però quello è la nostra caratteristica, noi dobbiamo insegnare al fisico andare oltre quel tanto che siamo poi in grado, in discesa, di rientrare sotto la nostra soglia di fatica. Ah, ho capito, quindi voi portate su... Nella salita puoi permetterti di andare un po' di più, non troppo, solo quando vai proprio a tutta, allora lì è un altro discorso. Però dobbiamo sempre cercare di andare appena oltre quel tanto che ci basta, che sappiamo poi che in discesa riusciamo a recuperarlo. Di corsa è un po' difficile, perché comunque in discesa semeni, il cuore sta su, i muscoli e il lattato continuano a crescere. A litri proprio. Ancora di più in discesa, ancora di più. Figurati, no, incredibile. No, tra l'altro parlavamo prima di quelli che non sono i veri campioni. Marco Olmo diceva una volta che chapeau soprattutto a loro, perché i campioni corrono per un significato per arrivare su un podio, perché hanno degli sponsor, questi corrono per una medaglia con su scritto finisher. non le vostre medaglie. Vito? La gara, però questo un po', a me piace nella mia filosofia, nel mio modo di approcciare anche la vita d'atleta top a livello agonistico, che ha degli obiettivi nei risultati, sicuramente. Però io penso sempre di riuscire, di cercare di sfidare me stesso in primis e andare oltre il mio di limite, cercare di migliorare sempre di più io stesso e fare il record del mondo di Kiko. E quindi riuscire a essere il migliore che posso. Sei il tuo avversario principale. Il risultato dipende poi anche dagli altri, perché in gara non siamo da soli. Qui invece viene la parte bella di chi fa il tour per finirlo. Il risultato è solo con te stesso. Assolutamente. Per noi invece poi in gara, per forza di cose, ti trovi degli avversari che ti aiutano però, ti aiutano a stimolarti di più e a far uscire ancora una più bella versione di te stesso. E allungare le zanne. Per quello che, come la domanda che hai fatto prima di Fabiani di fare il tor de Giano un domani, lui magari ci pensa e sono contento per lui, per le sue gambe. E io col pettorale, partire per fare le alte vie. Arrivi alla Tui l'automila l'allora. Sicuramente fare le alte vie della Valle d'Aosta 100%, perché un po' a smozziconi l'abbiamo fatta un po' negli anni, anche se stiamo tanto via da casa. Però fatto in gara, fatto come questi, ci van gambe, ma ci va anche soprattutto te stesso. No beh, ma io dico gara per finirla. Partirei nel secondo gruppo, tranquillo. Sono sempre 330 km, però lo farei per farla con calma e per finirla. Ok, allora, diciamo che per il momento non vi vedremo sulla partenza. Esatto. Però vi vedremo quest'inverno. Quando cominciate? Beh, iniziamo l'ultima settimana di novembre, sempre in Finlandia, a Ruka. Diciamo che manca ancora un po' di tempo, un po' di due mesetti per rifinire la preparazione, che sta procedendo bene secondo i programmi, quindi direi che saremo pronti tra due mesi e qualche giorno per dare il massimo e per tirare fuori le zanne, come dicevi. E allora, da noi del Tor de Jean, un grande, gigante, enorme, spaziale, in bocca al lupo. e ringraziamo Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino di essere venuti qua con noi. Adesso seguite il Tor e poi seguite loro, che sono più tosti di noi. Un saluto a tutti gli amici del Tor de Jean e agli amici delle montagne valdostane.